Credo che ci sia stato quello che c'è sempre d'estate con i giocatori un po' più richiesti, ci sono delle offerte, delle richieste e credo che sia importante per me, visto che ancora non ho parlato e ne ho lette di tutti i colori, dire la mia. Il mio punto di vista è stato questo, io sto qui, sto bene qui e non ho mai chiesto a nessuno di andare via, mai, messaggi, mancini, telefonate, frasi che lui avrebbe detto, è stato scritto veramente di tutto e non è la prima volta. L'unica cosa che posso promettere a tutti quanti è che il giorno che vorrò andare via dalla Roma, se mai succederà, io ne dubito, io ero a 29 anni, ma potrebbe succedere, verrò qua e vi dirò voglio andare via dalla Roma, voglio andare a vincere la Champions League piuttosto che il campionato tedesco o russo, voglio guadagnare 20 euro di più, mi prenderò la responsabilità mia, come è giusto e normale che una persona 30 anni faccia, voglio andare via, lo dico, non è mai successo, mai, né qui in conferenza, né davanti ai dirigenti, né con emissari di altre squadre o allenatori di altre squadre.